Anche in Abruzzo la CGL torna a chiedere che il vaccino anti-covid venga somministrato agli addetti alle vendite. Il segretario generale provinciale della Filcams di Chieti, Elena Zanola, spiega che la categoria composta in prevalenza da donne dovrebbe essere inserita tra quelle fragili. Secondo il sindacato si tratta di una misura doverosa verso chi fin dal primo lockdown è in prima linea dietro alla cassa di un supermercato o a un bancone, assumendosi il massimo del rischio per permettere a tutti i clienti di condurre una vita quasi normale. Sono lavoratori che sono in prima linea nella pandemia da marzo e dato appunto che tutti i luoghi di aggregazione sono limitati il supermercato ad esempio diventa un luogo di aggregazione, quindi un luogo dove è difficile gestire anche per questi lavoratori il tema della sicurezza contro il covid. Ci sono stati molti casi di contagi da covid-19 tra i dipendenti dei supermercati e i cassieri in maniera particolare? Sì, ci sono stati i casi, sono molti, non sono registrati nelle statistiche perché difficilmente arrivano ad essere considerati infortuni sul lavoro ma rimangono nel dato della malattia. L'INAIL considera una presunzione d'ufficio per i contagi avvenuti in ambito sanitario, mentre invece il contagio da covid avvenuto ad esempio in un ambiente come quello del supermercato non viene considerato scontato, quindi il lavoratore dovrebbe dimostrare che il contagio è avvenuto lì, quindi molto spesso questi dati sono in mezzo alla malattia comune, quindi non abbiamo un dato statistico ma sappiamo perché i nostri iscritti ce lo raccontano di numerosi casi di contagio covid anche nei supermercati. In vista del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, quali richieste volete rivolgere al governo? Abbiamo appena aperto il rinnovo del contratto collettivo nazionale del commercio e ovviamente oltre alla classica rimendicazione salariale che è quella che in qualunque rinnovo si fa, in questo rinnovo stiamo puntando anche molto su alcuni temi che sono venuti fuori con forza, uno è quello della tutela della salute e sicurezza e l'altro è quello della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e della tutela anche della parte della sfera privata e familiare. Teniamo conto ad esempio che in questa pandemia in cui ad esempio adesso in Abruzzo tutte le scuole sono tutte chiuse, i lavoratori del commercio, in particolare dei supermercati che lavorano sette giorni su sette non hanno a disposizione dei congedi covid e anche quando ci sono stati ad esempio sono stati al 50%. Tenete conto che il commercio è per lo più donna e part time involontario, quindi stiamo parlando di stipendi bassi e quindi ancora di più un congedo al 50% anche quando c'è è comunque una riduzione del reddito.